bellino oh c'è anche roba da mangiare gratis c'è roba da mangiare gratis bietole tutto a pieno eia ne ho mangiato un paio belle bietole c'erano lì eia mi ha arraffato un po no si appunto 26 proviamo quanto è questa salita al 18 un 18 ci siamo no quelle delle antenne sono al 20 infatti 18 20 adesso no no Sì! Sì! Ma non! Grazie a tutti. 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 Bellino, complimenti. Quello c'era anche l'anno scorso? Grazie a tutti. Bellissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.